Nella giornata di oggi ci sono state tante notizie legate a Xbox Series S, il nuovo modello più economico della console next gen di Microsoft, ma finalmente la compagnia ha confermato anche la data d'uscita ufficiale. È il 10 novembre 2020, data svelata da Microsoft all'interno del trailer di presentazione pubblicato in queste ore. Probabilmente avete già visto quel video, che presenta l'aspetto della console, il prezzo e alcune delle caratteristiche hardware. Una versione del trailer era infatti già trapelata nel corso della mattina, ma quando nel tardo pomeriggio quello stesso video è apparso sul canale ufficiale di Xbox, conteneva una piccola ma fondamentale differenza. Alla fine del filmato, l'uscita riportata non è più un generico novembre 2020, ma più precisamente il 10 novembre, andando così a confermare i rumor che giravano questa mattina e che erano stati riportati dal sito Windows Central. Non sappiamo ancora se si tratterà di un lancio globale, o se arriverà prima in alcuni mercati e poi in altri, però il fatto che l'uscita di Xbox Serie S sia fissata per il 10 novembre indica molto probabilmente che anche Xbox Serie X è prevista per il medesimo periodo, probabilmente proprio lo stesso giorno. Appare strano che un'informazione così importante come la data d'uscita della nuova console sia stata relegata alla fine di un trailer, e anche i post sui canali social della compagnia oggi non ne facevano menzione. È credibile quindi che Microsoft non prevedeva di annunciare in fretta e furia la console nella mattinata di oggi, trovandosi costretto a farlo dopo i leak. A questo punto non ci resta che attendere una comunicazione più precisa, magari con un evento in streaming, per capire più nel dettaglio tutte le informazioni che mancano su Xbox Serie X, Xbox Serie S e la line-up di giochi che accompagnerà le due nuove console. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete intenzione di prendere una delle due Xbox a lancio. Nella giornata di oggi abbiamo pubblicato diversi video approfondimenti su Xbox Serie S e che vi invitiamo a vedere, e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanella per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi. Noi ci diamo appuntamento al prossimo filmato sempre qui su Multiplayer.it